Quante classifiche leggiamo ogni giorno? Perché non fare una classifica di chi cerca lavoro? Tutto il tuo percorso professionale lo inserisci in un sito, un algoritmo lo elabora e ti posiziona in una classifica. Devi trovare un nome che funzioni. Ce l'ho già. E gommia. Non potete pretendere che una banca finanzi il progetto di un liceale. Sarà un altro in Italia, Steve Jobs, gli davano manco il mutuo per la prima casa. Riprenditi il posto che meriti. Tu sei più bello di loro. Sei pronto? Sì. E gommia sarà il motore di ricerca che vi porterà dove vi meritate di arrivare. Ci sono un botto di iscritti da quando siamo online. Siamo interessati ad acquisire gommia. Avere il 100% della società mi dà più libertà di movimento. Io ho lavorato con te, tu hai lavorato per me. L'unica cosa che ti interessa è sempre la stessa. Te, te e te contro tutti. Ciao. 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 Ciao.